Ma intanto l'evenienza è prevista dal nostro piano di protezione civile. Poi noi siamo fortunati nella fattispecie perché l'eventuale esondazione della Dora, anche nel caso più catastrofico, non interesserebbe il centro abitato. Interesserebbe sì i terreni agricoli che ne avrebbero un danno enorme perché poi quando arrivano i materiali alluvionali evidentemente lo stato dei terreni agricoli è tutto da recuperare. Quindi la comunicazione è quella che noi abbiamo istituzionalmente. Noi abbiamo un sistema di preallerte e di allerta direttamente sui recapiti telefonici dei cittadini. Sicuramente sono tutti fissi e anche sui cellulari di chi ci fornisce i loro riferimenti. Quindi abbiamo un mezzo, io ritengo, efficace di comunicazione che ci serve per tutto. A maggior ragione ci serve in caso di allerta meteo o in caso di eventi, non auguriamocelo mai, più catastrofici.